Ascoltatori di Youtube, apro la finestra, sono io, Aldo, il sottoscritto, apro la finestra e vedo un bellissimo cielo, bello, siamo al 24 settembre, tra una settimana e ottobre, ma qui guardo fuori ma è un mondo che non mi appartiene, qui è un mondo che non mi appartiene. Certo, Milano è bella, però amo la campagna, vorrei aprire la finestra e vedere i monti, il lago, le colline, i ruscelli, allora parto e mi accontento per ora di guardare i miei quadri, in questo istante di un tramonto che verrà stasera bellissimo. Mi accontento la mia visione ottica che porta il mio piacere a guardare l'intensità di colori, il mondo ha bisogno di colori e guardo, guardo dove vado oggi attraverso boschi, case abbandonate, luoghi desolate dove ci sono cascine. Questo è il mondo che mi appartiene, guardare al di fuori, aprire una finestra e vedere una valle, una montagna, come la montagna retine. Oggi vado, ritorno di nuovo, oggi esattamente in Valtellina e faccio un percorso, se riesco, se riesco, prendendo il treno alle 12.20 dalla stazione centrale di Milano verso Colico. Colico cambio, cambio, cambio e prendo il treno regionale, vorrei scendere a Delebio, Delebio fare 15 chilometri a piedi, raggiungere a piedi il paese di Morbegno. Allora vi spiego, da Morbegno vado alla località Torrazza, arrivato alla località Torrazza c'è il fiume Torrente Lesia, da lì proseguo verso Andalo. Quando sono arrivato a Andalo, che è il paese del lavatoio, proseguo ancora, arrivo lì per a Rogolo, Rogolo, Rogolo proseguo e inoltre il mio bel paesino denominato Pianio, Pianio. E intanto saluto quel ragazzo di Pianio che mi scrive sempre nel Youtube. Poi proseguendo da Pianio vado avanti, vado avanti in una bella camminata e arrivo Cosio, Cosio, alla stazione di Cosio Traona, dove ieri sera ho conosciuto un altro amico, un ragazzo di nome Giuseppe. E intanto lo saluto, gli ho annunciato che domenica prossima c'è l'inaugurazione dello Sky Boyne a Cosio, esattamente a Traona, e un altro sport di quel genere si trova anche a Poggi Ridente. Ma domenica dalle 10 alle 18 sono invitato dal sindaco all'inaugurazione di questa pista piccola ciclabile di pattini e biciclette. E poi gli stavo dicendo che proseguendo da Cosio, Cosio Traona, vado dalla parte superiore, vedendo sempre le montagne delle rettiche e le robbie, vado verso Via Blugo. Via Blugo, un paesino che mi sono innamorato da poco tempo, che non c'è niente, ma per me c'è tutto. Ci sono gli alberi, le castagne, c'è qualsiasi cosa, i funghi, stare in mezzo in un bosco è la cosa più bella che ci sia, altro che in mezzo alle automobili. Proseguendo da Blugo arrivo a Regoledo, sì Regoledo, tra poco sono arrivato a Morbegno e così la mia passeggiata, non so di quanti chilometri sono, Sarà 15-20 chilometri a piedi, ma penso di farcela, penso per raggiungere il mio scopo delle vedere cascine abbandonate, rudere e prossimamente cercare un piccolo alloggio dove mi fa da weekend il mio cuore dove battirà alla mattina aprire la finestra e vedere le montagne della Valtellina. Poi stasera da Morbegno ritorno a Cosa Traona, la solita fermata dove poi mi porta il treno Lecco, Colico, Lecco Milano. Vi saluto dalla giornata di una bellissima estate, si può dire oggi caldo, dal 24 settembre 2021. Aldo il girovago dei paesi della Valtellina.